Come è il disegno di legge? Pongono la necessità di valorizzare e capire la necessità di inclusione e di prevenzione rispetto ai disturbi mentali, cioè prevenire piuttosto che agire sulle cronicità e sul fatto che poi questi disturbi vengono stadiati a stati successivi di difficile gestione. Vengono rafforzati i dipartimenti di salute mentale, viene stabilito un tetto del 5% sulla dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, viene proposto l'istituzione di un fondo specifico per l'individuazione tempestiva dei disturbi mentali, appunto per agire in termini di presa in carico precoce di circa 80 milioni per gli anni 25-27, viene stabilito anche un criterio che è quello di garantire sicurezza ai familiari, che non significa il sillogismo che chi è affetto a disturbo mentale sia di per sé pericoloso, ci mancherebbe, ma ci sono episodi limite rispetto ai quali noi dobbiamo necessariamente intervenire. E ovviamente in parallelo a questo la possibilità del reinserimento sociale e lavorativo della persona affetta da disturbo mentale, ovviamente compatibilmente al suo disturbo. Questa bellissima iniziativa che il collega Guidi ha promosso è una bellissima iniziativa perché racconta in effetti una favola a rovescio e questo per chi come me apprezza il pensiero del collega Guidi e ne segue anche i percorsi culturali, è un grande privilegio, tenere alta l'attenzione sul fatto che l'immensa area dei disturbi mentali con diversi stadi di complessità va affrontata con una tensione diversa che non è l'ennesima diatriba di fronte alla quale noi legislatori ci troviamo tra una lettura che fa riferimento alla necessità della riduzione del danno o della messa in sicurezza rispetto invece a una lettura esattamente all'opposto, esattamente contrapposta, ecco questa diatriba eterna tra basagliani e antibasagliani per capirci, per far capire a chi ascolta, è una lettura che insieme a Antonio Guidi noi tentiamo di superare.